Il Vesuvio offre il suo solenne profilo disegnato sul cielo dell'alba alla squadra navale in visita a Napoli. Si direbbe che le coste medesime d'Italia si rallegrino alla vista di queste sagome, la Duiglio, l'incrociatore Duca degli Abruzzi e l'incrociatore Monte Cuccoli. A rivedere le nostre navi dopo le falcidie della guerra e dell'armistizio, l'affetto si addolcisce di tenerezza. L'immutabile orgoglio si mescola come di una più gelosa sollecitudine. L'ammiraglio Oliva riceve a bordo il prefetto di Napoli. L'incrociatore Muzio a tendolo è riemerso dal vortice che lo inghiottì colpito la sera del 3 dicembre 1942. Altre di queste navi sono ormeggiate in porti stranieri. Il nostro saluto le accomuna con queste belle unità che sono ancora la gloriosa flotta d'Italia.